Ve li ricordate Antonio Scibetta e Giampiero Montini? Se avete più di 40 anni sapete di cosa stiamo parlando. La serie TV si chiamava Classe di Ferro, andò in onda su Italia 1 dall'89 al 91, e i giovani militari alle prese con scherzi e risate erano interpretati da Giampiero Ingrassia e Massimo Reale. Quasi 30 anni dopo i due attori pubblicano una foto che li ritrae insieme, Classe di Ferro 30 anni dopo, Scibetta e Montini si rincontrano per caso? Che ci sia il progetto di tornare a lavorare insieme. Classe di Ferro 30 anni dopo, Scibetta e Montini si rincontrano per caso. Cancelletto Giampiero Ingrassia Cancelletto Classe di Ferro Cancelletto Telefilm Un post condiviso da Giampiero Ingrassia Chiocciola Giampiero Sottolineatura Ingrassia In data, AP 16, 2018 a 8 e 52 PDT Certo è che per quegli anni Classe di Ferro fu davvero un successo TV. La sigla della trasmissione, Asso, era cantata da Giovanotti. Stabilì il record di ascolti il primo dicembre 1989 con 5.851.000 spettatori, pari al 20,93% di Cher. La sigla della seconda serie, Elela, è invece cantata da Adriano Pappalardo